Martedì 26 febbraio alle ore 19.30 presso l'Auditorium Sant'Alfonso e Pagani si terrà una nuova tappa del Cammino Ecclesiale dal tema Fides ex Auditu, a guidare la riflessione Don Roberto Palazzo, sacerdote della diocesi di Sessarunca e docente di Sacra Scrittura presso la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, sezione San Tommaso, che terrà un alezio sul tema della serata. Il prossimo 26 febbraio alle ore 19.30 presso l'Auditorium Sant'Alfonso in Pagani per proseguire il cammino iniziato lo scorso giugno 2012 con la sosta ecclesiale vogliamo sostare insieme al nostro Vescovo Giuseppe e aiutati anche da Don Roberto Palazzo, biblista che ci aiuterà nell'alexio divina per rivedere, ripensare, per riproporre l'esperienza dei cortili di evangelizzazione. Viviamo questo tempo di grazie che è la Santa Quaresima e davvero invito tutti a pregare in questo momento particolare per la Chiesa, per Papa Benedetto XVI, così anche per il nuovo Pontefice. E come Chiesa diocesana vogliamo convenire e incontrarci insieme al nostro pastore Giuseppe per vivere un momento di Chiesa.